Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli e Ginestra Fiorentina e rallentamenti in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Per lavori, chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, per corsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Tutte le info sui nostri canali social. In A1 a causa di un veicolo in avaria ci sono code a tratti in entrambe le direzioni tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla Statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Grosseto Nord e Grosseto Est. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!